Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi, 23 febbraio. Vi ricordo che oggi abbiamo la puntata di venerdì di Matrix e quindi cercate di essere connessi questa sera alle 11.30. Puntata elettorale come saranno le puntate elettorali che faremo la settimana prossima lunedì, mercoledì e venerdì, solo che la settimana prossima sarà in prima serata alle 9.30. Quali sono i temi fondamentali della giornata di oggi? Intanto tutti i giornali raccontano della sparata di Juncker. Juncker dice che dobbiamo prepararci allo scenario peggiore, un governo non operativo in Italia. Dopo che ha detto questa frase i titoli di Stato, cioè lo spread, la differenza tra i titoli italiani e quelli tedeschi è balzato a 147 punti, mi sembra di leggere oggi sui giornali e questa dichiarazione l'ha fatta alle 14.36 di ieri e quindi in pieno apertura dei mercati e anche i mercati sono scesi, la borsa giù e lo spread quindi è salito. Quali considerazioni fare su questa vicenda? Intanto un titolo sbagliato però che vi dà il senso di come viene mal interpretato. Dice la UE teme l'Italia senza governo, titolo della stampa. È sbagliato, non ha detto questo, anche perché se avesse detto questo, cioè se temesse un paese europeo senza governo dovrebbe l'amico Juncker temerlo maggiormente in Germania dove si è votato a settembre e ancora non si ha un governo. E soprattutto è subiudice la partecipazione, immagino, del Partito Socialdemocratico alla grosse coalizione al referendum che fa tra gli iscritti del Partito Socialdemocratico il capo, come lo definì Berlusconi e come tale forse più pagliaccio che il capo, sembra essersi dimostrato il leader socialdemocratico Schultz. Quindi il problema non è la mancanza di un governo in Italia eventuale ma evidentemente quelli che non piacciono a Juncker. Juncker, dovete sapere, ha un problema con l'alcol. È una di quelle cose che i giornalisti non scrivono esplicitamente ma tutti oggi i giornalisti fanno le battute, sobrio, bevuto, bisogna che stia attento. Juncker è un alcolizzato probabilmente, non so se sia esattamente tecnicamente un alcolizzato ma il Presidente della Commissione Europea ha un problema serio con l'alcol. Ci sono delle immagini in cui lo vedono barcollanti, straparla, insomma i latini direbbero in maniera dolce e saggia in vino veritas. Questo è il problema di Juncker che in vino veritas cosa dice? Non la verità che in Italia c'è un problema ma la verità per la quale la Commissione Europea nella figura di Juncker che è il simbolo dell'asse franco-tedesco-mercheliano, insomma a questa Commissione Europea non piace affatto. Quindi se vi è un problema per la Germania che non ha governo, no. Per l'Italia che ha governo, sì. Un problema per la Spagna che ha dovuto votare per la seconda volta, no. Per l'Italia che non ha governo, sì. E oggi nota Massimo Franco su Corriere della Sera una cosa banale, cioè che Juncker è oltre che avere dei problemi con l'alcol non è tatticamente una persona, come possiamo dire, politicamente accorta e sono un po' dolce su questa frase perché quando un Presidente della Commissione Europea si permette di dire una stronzata di questo tipo e soprattutto con delle ripercussioni di borsa di questo tipo, cosa succede? che non si fa altro che aizzare esattamente i nemici che Juncker vorrebbe sconfiggere paventando un'Italia senza operatività. E cioè Movimento 5 Stelle, Lega, Salvini, le parti meno europeiste di Forza Italia quando sentono queste stronzate dette da Juncker, ovviamente e giustamente, aggiungo io, rivendicano il fatto che questo burocrate che nella vita non ha fatto altro che fare il Presidente della Commissione del Presidente di uno Stato inesistente come il Lussemburgo, o meglio esistente solo per l'evasione fiscale come è il Lussemburgo, perché questo è il Lussemburgo, dicevano che l'Italia è un'espressione geografica no, quella è un'espressione fiscale, chiaro? Allora il responsabile di un'espressione fiscale non può rompere i coglioni un paese che in realtà ha una storia, una tradizione e comunque una dimensione che a Juncker se la magna cinque volte. Allora è evidente che in questa maniera Movimento 5 Stelle, Salvini e anti-unopeisti si mobilitino. L'unica che ovviamente è talmente, come posso dire, non la so definire, è Emma Bonino che oggi ha il coraggio di riscrivere in un'intervista sul Corriere della Sire così il paese non dà un'immagine di serietà. Secondo la Bonino è il paese che non dà un'immagine di serietà? Cioè quella che ha preso le firme non è riuscita a prendere le firme e si candida con la lista tabacci e fa l'inciucio e non è in grado di fare quello che hanno fatto Casa Pound, dieci volte meglio, l'Italia dieci volte meglio dei ragazzi che non hanno nessuna sede, quindi ancora meno di Casa Pound, Forza Nuova o Potere al Popolo. Cioè dei ragazzi sono riusciti a raccogliere le firme per presentarsi le circoscrizioni, non c'è riuscita la Bonino e ci dà lezioni di serietà e che è colpa nostra se Juncker dice che l'Italia non avrà un governo operativo in piena mercati aperti? Allora se questa è l'idea della più Europa di Bonino, voi avete capito perché io ogni giorno, anche oggi abbiamo la dose di Bonino, anche oggi la dose di Bonino e anche oggi i giornali intervistano chi? La persona che rappresenta nessuno, ma che avrà la sua pattuglia parlamentare grazie a tabacci. Insomma queste sono le cose che riguardano Juncker. Seconda notazione, scusatemi, è una piccola notazione perché era ieri sui giornali, cosa succede? In una scuola ci sono dei bambini che non riescono a dormire in quella scuola perché i bidelli non spostano le brandine da una stanza all'altra, cercano di farlo le maestre, ma insomma i bambini non riescono a dormire, i genitori si arrabbiano perché questi... Oggi non si chiamano più bidelli, si offendono se si chiamano bidelli. Come si chiamano? Io avevo l'adorazione per il mio bidello, ma oggi non si può chiamare bidello perché è insultante, si chiama, non so, personale, tecnico, amministrativo, no? Ata, ato, insomma si chiama in una certa maniera inconfusionale. Loro non possono spastrare oggi, Gramellini dice, sfotte questi qua dicendo, adesso vi dico il titolo, qual è il titolo, ma proprio quelli, sono difesi sindacalisti, insomma, dice che questa cosa oggi sul Corriere della Sera Gramellini è assurda. In realtà però è proprio il gramellinismo, è proprio quello che ci ha portato al fatto che i bidelli dicano che non è di loro competenza spostare le brandine per i bambini che pesano pochi chili. Sapete perché? Perché è loro che ci hanno fatto una testa così sulla dignità del lavoro, che non vuol dire nulla, nulla. Abbiamo il coraggio di dire che il lavoro è il lavoro, non c'è nulla a che vedere la dignità del lavoro perché dietro a questa paroletta della dignità del lavoro vuol dire che i capi non possono controllarti, i capi non possono redarguirti, i capi non possono... Sapete che cosa penso io? Un bidello che non sposta la brandina di un bambino deve essere mobbizzato. Avete sentito la parola che ho detto? Mobbizzato. Perché oggi si dice mobbing, quello che un tempo si sarebbe detto che un incapace, che non ha voglia di lavorare e che si arroga il diritto di non fare una mansione che è chiaramente sua, perché c'è qualche regolamento e qualche sindacalista che lo difende, via! Via! Capito? L'avete difesi per una vita, la dignità del lavoro, la precarietà. Che cosa vuol dire la precarietà? Vuol dire che se combatti la precarietà che cosa vuoi? Vuoi questo? Vuoi che dei bidelli, ma dei bidelli adesso non ce l'ho con i bidelli perché ci sono centinaia di fantastici bidelli, ma quei bidelli, esattamente delle brandine, avrai centinaia di lavoratori che pensano di essere inamovibili e quindi non è di loro competenza molta roba. Sapete quanta roba abbiamo fatto non di nostra competenza e continuiamo a farla perché il lavoro è questa roba qua? Non è l'amore, non è la casa, non è la famiglia. Il lavoro è un'altra cosa purtroppo, no? E quindi ci sono tante cose di nostra competenza che non ci va di fare. Vabbè, comunque, avete capito come la penso? Andiamo sull'altro tema della giornata, la politica. Oggi il pezzo di politica forse più interessante per quello che non dice è quello di Mario Calabresi, il direttore del Repubblica dice che ripara del conflitto di interessi di Berlusconi, un scandaloso conflitto di interessi di Berlusconi, è inutile che ve ne parlo, lo conoscete bene tutti quanti voi, è una di quelle cose che tutti conoscono, le pulsioni neofasciste, quindi c'è riferimento che penso a una componente di destra che sarà Salvini e la Lega e l'incompetenza rivendicata in manifesto e quindi il Movimento 5 Stelle. Quindi i calabresi se la prendono contro queste tre cose, contro il Cavaliere, contro le pulsioni neofasciste, contro l'incompetenza rivendicata in manifesto. Quindi chi tiene fuori da questa sua critica incredibile della politica? Il PD. Faceva prima, come fanno i direttori che sbagliano secondo me, a fare un endorsement, dicendo viva Renzi, viva il PD, viva l'EU, forse è l'EU che tira fuori qua dal conflitto di interessi delle pulsioni neofasciste, dell'incompetenza rivendicata in manifesto. Quindi è un fantastico, incredibile, no incredibile, molto credibile, anche se volete trasparente, endorsement i calabresi per il PD. Peccato che non lo cita e che non lo legga così. Lo dice, ma non lo fa. Oggi il PM di Matteo, in questo quadro di campagna elettorale, ci spiega che il Cavaliere ha sovvenzionato la mafia per vent'anni. Ma questa cosa la fa? Ovviamente la dice su Giardinere Straniero e il Paese, in maniera tale che gli Juncker crescano. A proposito di magistrati che mi fanno paura, oggi mi sono letto l'intervista di Camillo Davigo a Repubblica sugli agenti provocatori. Dice che l'agente provocatore è come le operazioni sotto copertura. Quindi lui dice che se io ho un infiltrato che vede che sta avvenendo un crimine, è la stessa cosa di infiltrare qualcuno per procurare un crimine. Questo dice Davigo. Ci arriva anche un bambino, non forse un giurista sofisticato come lui, che le due cose sono diverse. E Cantone ci ha detto che le due cose sono diverse soltanto due giorni fa. Mentre lui invece ci spiega che agente provocatore, che è la storia di fanpage, è infiltrato nelle mafie, nella corruzione, nella vendita di droga, sono due cose esattamente uguali. Dice che in fondo l'infiltrato è come quello che si procura la cocaina e cerca di incastrare lo spacciatore. Capito? È la stessa identica cosa. Allora, secondo me è una cosa talmente banale quella di capire che quello che dice Davigo è del tutto falso e che cerca di giustificare uno stato in cui teorizza Davigo tutti devono subire l'agente provocatore. Cioè quello che ti sta qua sul collo e che cerca di provocarti. Prendi una pasticca, prendi un po' di droga, prendi sta mazzetta, prendi sta figa, vai a mignotte. E' questo. Noi dobbiamo vivere in questo mondo per cui, come citando in maniera incredibile Hobbes, oggi per Camillo D'Amigo ci racconta uno stato, quello che lui sogna, che è lo stato della Germania dell'Est. Ultima cosa, collettivi Obo. Vi ricontate quando abbiamo iniziato a parlare del fascismo e come ne ha parlato Repubblica all'ondata nera? Quando ci fu un collettivo di nazi skin che si presentò e interruppe un'assemblea delle ONG a Como. E da lì si disse le operazioni fasciste. Il collettivo Obo, quello che ha precluso pane bianco dal fare una lezione all'università, quello che ha bruciato i libri di Salvini, come ricorda oggi Mattia Feltri sulla stampa, è anche lo stesso che ha fatto recentemente un'irruzione nella sede del PD, dicendo che avevano dato l'Italia ai fascisti. Il collettivo Obo è lo stesso che è andato in Consiglio Comunale, non dopo aver menato qualche vigile urbano, gli ha messo un manifesto dicendo che erano tutti fascisti al Consiglio Comunale di Bologna. Allora, se c'è un nazi skin che va a Como, apriamo i giornali in prima pagina, ritorno del fascismo, interrotto l'assemblea dell'ONG. Quelli hanno retto un programma e se ne sono dati via senza menare nessuno. Mentre invece se i collettivi, tanto tollerati da Merola, da De Magistris, da Orlando, da Sala, questi fantastici centri sociali, vanno e interrompono una sede di un partito, o nel Consiglio Comunale, oppure in un'aula universitaria, cose che sono avvenute negli ultimi giorni, beh, quelli no, quella si tratta di democrazia. Nelle manifestazioni di ieri, che cosa è successo? Ovviamente i soliti carabinieri menati colpa di chi è la colpa dei menati carabinieri è che loro stavano menando o idratando o martellando i manifestanti pacifici contro Casa Pound. E questa è una logica completamente rovesciata, incredibilmente rovesciata. Abbiamo letto di quell'attacchino che è stato accoltellato, vi ricordate, nel giorno del massacro, del pestaggio del rappresentante di Forza Nuova a Palermo, nel pomeriggio hanno accoltellato uno di potere al popolo che stava mettendo i manifesti. Poi dopo abbiamo scoperto che la storia è completamente diversa, non è stato accoltellato da tre di Forza Nuova, o meglio, probabilmente è stato accoltellato da uno di Forza Nuova, ma sono loro che hanno iniziato a fare la rissa con quelli di Forza Nuova, perché erano quelli di Forza Nuova che stavano mettendo i manifesti, mentre quelli di Potere al Popolo li hanno beccati e li hanno corcati di botte, e uno di questi si è beccato tre coltellate. Cambia qualcosa? No, perché uno che gira col coltello e accoltella gli altri ovviamente non deve essere difeso. Cambia qualcosa il fatto di difendere, per quanto mi riguarda, Forza Nuova, Casa Paudo, Potere al Popolo? No, io non condivido nulla di quello che pensano, però cambia quello di pensare che oggi noi si possa prendere dei voti sull'antifascismo, che è una di quelle prese per i fondelli che, immagino, gli italiani non calabresi capiscono con grande perfezione. Questa sera ci vediamo alle 19 con 105 Matrix, ci sentiamo con 105 Matrix, ci vediamo questa sera alle 23.30 con Matrix su Canale 5, e se vi è piaciuta questa zuppa condividetela, che è lo strumento migliore per diffondere le nostre idee con libertà. sito nicolaporro.it per tutto il resto. Ciao!